Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sorti. Marito e moglie agli arresti domiciliari, obbligo di dimora per il figlio. Questi provvedimenti nell'ambito di un'inchiesta su usura e estorsione condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Montepulciano, siamo nella provincia di Siena e coordinata dalla Procura. Eseguito anche un sequestro preventivo di beni fino a 700 mila euro. Secondo quanto spiegato, l'inchiesta avrebbe portato ad accertare prestiti con interessi anche superiori al 900%, fatti a piccoli imprenditori, commercianti e privati delle province di Siena e Arezzo. Era alla guida della sua auto con un tasso alcolico quattro volte superiore al limite di legge e nel mezzo è stato ritrovato anche il portafoglio di una donna di cui agli agenti non ha saputo dare una giustificazione. Per questo un 33enne è stato denunciato dalla polizia. L'uomo, fanno sapere gli investigatori, era da poco uscito da un locale nella zona delle Cascine a Firenze dove invece si trovava ancora la donna a cui era stato sottratto il portafoglio poi restituito dagli agenti. Il 33enne è stato denunciato per ricettazione in debito utilizzo di carte di credito e guida in stato di ebrezza. Arrivata alla cassa del supermercato voleva pagare una sola confezione di vino ma sotto gli abiti ne aveva nascosta un'altra e scoperte andate in escandescenza danneggiando la cassa dell'esercizio commerciale minacciando la cassiera. Per questo una 33enne è stata denunciata dalla polizia. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 21 in via Santa Caterina da Siena a Firenze. La donna, già nota le forze dell'ordine, è di origine rumena. Oltre 500 ristoratori, operatori turistici, commercianti, ambulanti e non hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta dal gruppo Ristoratori Toscana e aperta alle altre categorie del terziario, in piazza Duomo a Firenze. Da ora in poi accoglieremo all'interno della nostra associazione le diverse categorie del commercio, ha spiegato il Presidente. Saremo più forti che mai, siamo già 2.000 tesserati ma l'obiettivo è di 10.000-15.000 tesserati e non ci fermeremo qui. Intorno alle 12 di domenica hanno bussato in casa di un'ottantenne in via Mariti a Firenze, fingendosi rispettivamente poliziotto e operaio della ditta del gas e con la scusa di dover controllare se nell'appartamento vi fosse una perdita, si sono fatti consegnare dalla donna i gioielli che aveva in casa, dicendo che dovevano essere messi in frigorifero, ma una volta ricevuti i preziosi, i due uomini sono andati via. Solo a quel punto l'ottantenne si è accorta di essere stata raggirata e ha chiamato la polizia. Indagini sono in corso. Domani alle 13 la commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto svolgerà un'aduizione del procuratore aggiunto pro tempore presso il Tribunale di Firenze, Giuliano Giambartolomei. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv. Un finanziamento di 260 milioni, 250 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 10 dal Comune, 15 fermate, tempi di realizzazione di tre anni. È il progetto preliminare della linea 3.22 a Firenze, Libertà-Campo di Marte-Rovezzano, che è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio. È la linea dello stadio, ha detto il sindaco Nardella e di Campo di Marte. Non siamo agli annunci. Non vanno fatti contratti e gare di appalto. Ci sono già. Se il finanziamento viene approvato entro marzo 2021, la partenza dei lavori può essere a primavera 2022, con il termine a primavera 2025. La nostra Regione ha un gap infrastrutturale, ha una retratezza dal punto di vista dello sviluppo economico, dovuta anche alla mancata visione sulle infrastrutture. Lo ha detto l'eurodeputata leghista Ceccardi, è candidata alla Presidente della Regione per il centrodestra, a margine di una manifestazione oggi a Firenze. Sicuramente, ha aggiunto Ceccardi, faremo meglio di quanto non hanno fatto i governi di centrosinistra in questi dieci anni. Luca Zaia è in testa all'indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 regioni a elezione diretta, realizzata dal Sole 24 Ore. Il governatore della Regione Veneto è cresciuto in un solo anno dal 62 al 70%, un dato che costituisce un vero e proprio plebiscito. In vista delle elezioni regionali, i risultati fatte dal Sole 24 Ore offrono una prospettiva buona anche al Ligure Giovanni Toti, ma anche al governatore Rossi per la Toscana, anche se non sarà lui il candidato per il centro-sinistra. E pochi giorni fa ha subito, da parte della DIA, un sequestro di beni per 10 milioni di euro, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale del Tribunale di Firenze, perché è considerato legato ad ambienti camorristici. Ma il procedimento penale che aveva anche portato nel 2007 all'arresto suo e della moglie si è chiuso con una assoluzione in Cassazione. E' quanto spiega in una lettera inviata alla stampa Francesco Rastelli, imprenditore alberghiero, originario della provincia di Napoli, ma da tempo trasferitosi in Toscana e più precisamente a Montecatini Terme. E la Fiorentina ha vinto per la prima volta da quando è ripreso il campionato e lo fa dopo due K.O. consecutive in casa del Parma, che al Tardini proprio non ingrana, visto che quella di ieri è la quarta sconfitta interna di fila per gli Emiliani. Ma i veri protagonisti dell'incontro non sono stati gli uomini di Daversa o quelli di Iachini, bensì l'arbitro e il suo assistente Video. Le tre reti del match sono infatti state segnate tutte sul rigore. E mentre sul primo a favore della Viola non ci sono dubbi, è invece lecito averne sugli altri due entrambi concessi con l'ausilio del VAR. Ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà nuvoloso con possibili rovesci. La tendenza generale però ha un rasserenamento nel pomeriggio. I venti sono moderati da nord-est, i mari poco mossi. Le temperature sono le massime in sensibile calo nelle zone interne, in lieve aumento invece sulla costa. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.